Festeggiamo questo nuovo anno con una bevanda costosa! Una bevanda stampata e coriandoli! Perché la cosa più importante è la festa nel tuo cuore! Come dovremmo decorare l'albero? Con i miei gioielli di famiglia, ovviamente! Voglio che l'albero brilli! Guarda cosa ho pensato! Una ghirlanda di soldi! L'ho fatta io! Il nostro albero è perfetto! Ma aspetta, c'è di più! Facciamo nevicare! Non possiamo passare il Natale senza neve! Tutti questi fiocchi di neve sono per te, Michelle! Decoriamo la nostra casa! La carta igienica diventerà delle grandi ghirlande! E io ho già disegnato un albero! Guarda! Wow! È bellissimo, Foxy! Provo la mia ghirlanda! Perfetta! Aspetta, manca qualcosa! Forse dovremmo colorare l'albero con dei pennarelli! Sì! Sarà proprio come uno vero! Wow! La nostra casa è così bella e festosa! Ma il tavolo sembra triste! Decoriamo anche lui! Un arbre magique! E dei piccoli regali! Adesso è davvero accogliente! Ma ci manca la neve! Aspetta! Apro la finestra! Let it snow! Nevica davvero! Wow! Che bello! Purtroppo il nostro caminetto non è per niente caldo! Diamo un'occhiata alle nostre calze di Natale! Soldi? Ancora? Come al solito! Cosa ho ricevuto? Dei lingotti d'oro! Wow! Belli! Sono solo un piccolo pensiero! Oh, so cosa farci! Possiamo giocare a Jenga d'oro! Tocca a te, tesoro! Attento! Non graffiare il Rolex! Oh! La torre d'oro è caduta! Presto! Vediamo cosa c'è nelle nostre calze! Uno! Due! Tre! Un calzino nuovo! È così carino! Cosa? Ognuno di noi ha un calzino? Quindi chi avrà la coppia completa? Dammelo! È mio! È bello festeggiare con dei bei calzini nuovi! Non essere triste, tesoro! L'anno prossimo spetteranno a te i calzini nuovi! Sì, mi piacerebbe acquistare l'Antartide! Impacchetta tutti i pinguini per me! Tesoro, guarda cos'ho! Siamo poveri o cosa? Ti mostrerò dei veri fuochi d'artificio! Wow, una stellina scintillante gigante! È enorme! È fantastica! Grazie, amo! Guarda, è ipnotizzante! È bellissima! Questa scritta starebbe proprio bene sul nostro albero di Natale! Oh, tesoro, guarda! Le stelline scintillanti! Vorrei che ne avessimo alcune! Sarei davvero felice se potessimo accenderle alla vigilia di Natale! Ogni tuo desiderio è un ordine! Guarda che brucia! Sì! Si è spento! Proverò di nuovo! Woohoo! Si è spento! Un altro! Sì! Si è spento di nuovo! Chi è là? Oh, un piccolo elfo carino è venuto a cantarci i canti natalizi! Ecco qui! Questi sono per te! Non abbiamo tempo per i canti natalizi! Buon Natale, elfo! Guarda chi c'è! Un elfo che canta i canti natalizi! Sei una brava cantante! Ecco delle caramelle per te! Che cosa? Guarda quanti soldi! Essere un elfo è fantastico! Aprite! Siamo qui per cantare! E guadagnare un po' di soldi! Foxy è una sorpresa per te! È Babbo Natale! Esprimi il tuo desiderio! Caro Babbo Natale, ho un'intera lista per te! Andiamo con ordine! Un iPhone, una PlayStation, una Tesla, uno yacht personale, una o due borse di Chanel, un appuntamento con G-Man! Caro Paul, ho bisogno di soldi per un iPhone e una PlayStation e una o due borsette di Chanel e una Tesla! Ok Babbo Natale, sei stato bravo quest'anno! Michelle e Paul sanno sempre che regali fare ai loro amici! Vanno a tutti il nuovo iPhone! Ciao! Siamo pronti! Quale volete? Oro o platino? Oro! Questo è per Mary! Siamo così ricchi! Incartiamo i regali dei nostri amici! Allora, cosa sembra questo? Oh, una pistola! Sei sicuro? Ok, possiamo darlo a Mike! Amo, guarda cosa ho comprato! Preparerò i biscotti di Natale! Che cosa? Cucinare con le tue preziose mani? Siamo poveri o cosa? Ordinerò dei biscotti super costosi! Oh, ecco i nostri biscotti reali! Volete il latte? Michelle, serviti! Questo mino di pan di zenzero è tutto per noi! Hai qualcosa lì? Lascia che ti pulisca! Adoro essere ricco! Questa storia dell'omino di pan di zenzero è così dolce! Esatto! Voglio preparare i biscotti! Ma non abbiamo nessuno degli ingredienti! La nostra cucina è vuota! A meno che... No, non c'è niente neanche qui! Cosa faccio? Foxy, cosa c'è che non va? Non ho niente da usare per fare i biscotti! C'è sempre una via d'uscita! Raccogliamo tutte le briciole dei biscotti dell'anno scorso! E anche un po' di pan grattato! Bingo! Briciole di Pasqua! Sono sufficienti per un nuovo biscotto! È bellissimo! Honey! Non sbirciare! Oh, un biscotto? Ma come hai fatto? È un miracolo di Natale! Mmm, è buonissimo! Che cos'è? Del vecchio noioso vischio? Non per il mio prezioso angelo! Il nostro vischio è fatto di soldi! Michelle, ho preparato il nostro vischio! Wow, questa è una tonalità di verde così costosa! Adoro questo vischio! Sei così romantico, Paul! Foxy, guarda! Ho appeso il vischio per te! Che cosa? Ma quello è il mio prezzemolo! Niente baci sotto il prezzemolo! La cena è pronta! Che cos'è? Insalata fatta con il tuo vischio! È buonissima! Sì, sto comprando un'intera isola per la nostra festa di Natale! Tesoro, questo è per te! Oh, adoro i regali! Che cos'è? Un nuovo maglione! Questo maglione fa prurito! Guardia! Sto venendo ad aiutarla, signore! Un grattatore personale per il maglione che prude! L'altra spalla, Justin! Oh sì, molto meglio! Indovina un po'? Ho speso i miei ultimi soldi per comprarti un regalo! Sì, grazie! Guarda cos'è! È un nuovo maglione! Ne volevo proprio uno così! Provalo! Oh, che sta così bene! È perfetto! Questo maglione fa prurito! Devo grattarmi! Ho un'idea! Il maglione è così pungente che possiamo usarlo come un albero di Natale! Foxy, guarda la mia invenzione! Che cosa? Non è il mio regalo! Ah! Punge! Hai ragione! Questo maglione è un fantastico albero di Natale! Che festa divertente e costosa! Stiamo vivendo alla grande! Ci servono più luci per illuminare i nostri milioni! Oh oh! Abbiamo bruciato la presa! E le nostre ricchezze non brillano al buio! Benvenuti alla nostra piccola cena natalizia all'ume di candela! Oh, è così dolce! Chi è? Ciao! Siamo i vostri vicini! È così accogliente qui! Abbiamo portato la cena! Festeggiamo insieme! Le feste sono migliori in compagnia! Buon Natale! Ti sono piaciute le nostre coppie durante le feste? Allora commenta qui sotto e dici quale festa ti è piaciuta di più! E voi ragazzi, iscrivetevi al nostro canale! Mettete like a questo video e fate click sulla campanella! Non perdetevi nessun nuovo esilarante video di WooHoo! Grazie a tutti!